spesso il talento per la musica si nasconde nei luoghi più impensati a volpe perfino tra le scene di una serie tv abbiamo chiesto a chi di talento se ne intende di giudicare questi cantanti seriali ma io non posso permettermi neanche di commentare che mi spessi cioè che mi spessi è intoccabile e se non sapessi che è un grande attore e lo ascoltassi a occhi chiusi penserei che è uno che canta bene dunque giù il cappello solo felice ma no la parte bella della canzone alla fine se vogliamo dirla tutta qui stavamo ascoltando il doppiatore italiano che cantava non proprio bron ma io devo dire che io ho visto questo programma in inglese e bron canta benissimo per me è un sì per il bron originale per l'italiano no assolutamente no he doesn't have a voice unfortunately no no but you know good luck keep singing bello una bella atmosfera mi sembra per me è un sì ma per favore cerchiamo di avere un po di questa un po di concita per sta sarà divertente sei un disastro oh questo vito a stoffa è un chitarrista di prima esce il giro di chitarra ovviamente bellissimo perché lo dice esce giusto è vero la chitarra non è male ma in questo ambiente c'è una costante inderogabile un successo è un successo è quella roba che ho sentito non è un successo perché come fai a arrivare al primo posto della ipare con un pezzo che dice miau 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 this is my kind of time that was leaving steven ma insomma diciamo che canta meglio di quello che mi ricordavo poi qui si cala molto bene in questo nei panni di questo personaggio l'ha fatto molto bene cioè mi piaceva anche l'attitude molto sinatriano si può dire beautiful voice yeah kind of strange looking ma lui canta bene ma secondo me ha bevuto un po troppo di whisky what's the matter you don't like my performance i'm gonna make a phone call you're gonna get a visit lui deve uccidere non noi ma il suo stilista non scherziamo i'm totally absolutely screwed you did that to me you set me up i'm gonna make a phone call i know people